Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi, oggi vi spiego dove trovare questo spadone del mastino Dirigetevi qui alla terra dei giganti, qui alla neve E adesso vi faccio vedere anche il posto esatto dove cercarlo Eccolo qua, questo è il posto, la posizione esatta è questa E dobbiamo andare lì alla catacomba e scendere giù Ma senza uccidere un boss, no, non dobbiamo uccidere un boss Dobbiamo scendere là sotto e fare una cosuccia Uccidendo un cane, anche se sembra un felino E ci tropperà la sua spada Molto semplice Se avete anche l'arcano, cioè se avete livellato, migliorato, cioè livellato l'arcano Meglio è, perché ora non ci basta che toccare questo punto di grazia Se volete un incantismo che si trova all'interno Sbloccate, mettete la chiave della spada di pietra Usatela, entrate qua dentro e se volete questo incantismo La fiamma proteggimi Prendetela Noi adesso dobbiamo andare da questa parte Non cagatevi questo tizio Tanto basta proseguire dall'altra parte, dalla finestra Qui scendete qua sotto e dobbiamo uccidere questo cane Mastino, questo dobbiamo uccidere Fate in modo di affrontarlo 3-4 volte Cercate anche di ucciderlo un bel paio di volte E vi tropperà quella spada Perché io l'ho affrontato 2-3 volte E niente, mi ha droppato lo spadone Eppure l'ho potenziato perché Su quello spadone mi serviva tanto la cenere Quella The Lash of War The Lion Cioè l'applichi sulla spada E fai tipo una sottospecie di capriola davanti Con la spada E fai veramente un botto di danno E stordisci anche i nemici Quindi è molto letale E mi serviva E niente, l'ho affrontato la prima volta Ora uccidiamolo di nuovo Finché non ci dropperà la sua spada Certe volte sbaglio sempre qua La rotolata Perfetto Una volta ucciso E niente Ecco qua la spada Ragazzi Se volete guardarvi l'altra guida Che caricherò sul canale Su come trovare quella cenere Che vi parlavo Quindi ragazzi Restate aggiornate Sul canale Attivate anche la campanellina Se questo video vi è stato utilissimo Lasciate anche il like E niente ragazzi Grazie a tutti per questa visione E noi ci vediamo Ad un prossimo tutorial Ciao 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 Grazie.